musica 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 un amico di iniziare a fare la cosa differenziata e di cominciare a prendere un po' l'aula se non vuole educarvi delle ore in più per un paolo musica 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 No, no, a fine di creazione facciamo un'assemblea di classe. Allora ragazzi oggi dobbiamo parlare di chi non rispetta la raccorda differenziata. Paolo, forse a prendere presto attenzione dato che l'interessata potresti essere tu. Io? Ma io cosa ho fatto adesso? I tuoi compagni ti ignorano per un motivo, lo sai che la raccorda differenziata va rispettata? Paolo dovresti cambiare per noi e per l'ambiente Esatto, noi ti aiuteremo